Pensi ad Abarth e ti viene in mente lo Scorpione, pochi altri marchi dall'animo sportivo hanno nel logo un legame così forte. Scorpione, Abarth, velocità, divertimento, la nuova 695 SS racchiude tutte le peculiarità che hanno fatto grande il marchio. Una piccola peste dal rapporto peso-potenza invidiabile che si traduce in dinamica di guida senza rivali. Il peso è ridotto grazie all'adozione di materiali ultraleggeri come il titanio dei nuovi scarichi a Krapovic, che evidenziano un rombo davvero sportiva. La cura dimagrante fa segnare meno 15 kg sulla bilancia, davvero tanti per un'auto così piccola. Al posteriore un mega spoiler assicura maggior stabilità, esagerato nelle dimensioni ma indovinato per estremizzare l'estetica della nostra piccola peste. È inclinabile fino a 60 gradi per una maggior downforce alle alte velocità. Altro tocco racing, i cerchi da 17 pollici da cui risaltano le pinze rosse Brembo. rosse Brembo. Lo stesso vale per l'interno, dove l'assoluta qualità della pelle, lo spropositato uso di alcantara e i dettagli in carbonio regalano un effetto sportivo all'opinabile design della plancia in pieno stile 500. Il cuore è il 1.4 T-Jet, un motore in grado di regalare emozioni davvero sportiva. Proprio come per l'antenata a cui si ispira, questa 695 rappresenta per Abarth la massima espressione del divertimento, da portare in pista nel fine settimana o per spremerla a fondo su strade di montagna, dove se ne apprezzano le doti curva dopo curva. Una piccola peste che non fa rimpiangere sportive ben più pompate di cavalli sotto al confano.